Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i Suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero, «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro, «In verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di Lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora, «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro, «Questa è l'opera di Dio, che crediate in Colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero, «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù, «In verità, in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero, «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro, «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete. Mai». Parola del Signore. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni, nel grande racconto del capitolo 6. Dopo aver ascoltato il racconto, la narrazione della moltiplicazione dei pani e della camminata di Gesù sulle acque, ora inizia il grande discorso sul pane di vita nella sinagoga di Cafarnao. Tutta la gente cerca Gesù, sono dietro e lo inseguono quasi, è quindi una cosa bella cercare Gesù, ma Gesù vuole che questa ricerca, questa cosa succede spesso nel Vangelo di Giovanni, sia adeguata. Non si ha la ricerca solo di un taumaturgo, di un uomo capace di prodigi. E allora Gesù orienta la ricerca della folla. «Voi mi cercate, non perché avete visto dei segni, ma perché vi siete saziati di quei pani. Avete mangiato, vi siete fermati alla superficie, al primo passo, a quello di riempire la pancia, ma c'era ben di più in quel segno, come li chiama Giovanni, mai usa la parola miracolo, sempre segni, cioè bisogna proprio andare al di là del gesto per scoprire il vero significato. E allora ecco che Gesù inizia la sua catechesi per approfondire il senso di quel gesto, di quella moltiplicazione dei pani. La domanda e le risposte che si danno Gesù e la folla sono proprio indicative di una ricerca di fede. La folla gli dice che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio, cioè che cosa dobbiamo fare per essere graditi a Dio, per salvarci? È una impostazione tipicamente giudaica. Per salvarsi bisogna osservare i comandamenti di Dio. Gesù li porta più in profondità. C'è solo un'opera gradita a Dio. Questa è l'opera di Dio. Che crediate in colui che egli ha mandato. Ecco, l'opera di Dio, cioè la strada della salvezza, è la fede in colui che Dio ha mandato. E qui parte tutta la ricerca proprio sul segno dei pani. La folla dice i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e tu che segno fai? Ecco, e Gesù allora approfondisce ancora. Non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il padre mio colui che vi dà il pane dal cielo, quello vero, che è colui che discende dal cielo e dalla vita al mondo. Ecco qui un primo centro di rivelazione fortissimo. La fame dell'uomo non è solo quella di cibo. Noi portiamo nel cuore fame di tanto e di molto di più. Fame di amore, fame di senso, fame di speranza, fame di felicità. E non c'è cosa, e neanche persona, che possa totalmente colmare questa fame. Siamo sempre alla ricerca di un di più, di stare meglio, di essere felici, di avere il cuore che canta. Non c'è cosa materiale e neanche relazione umana, anche se chiaramente sono queste le cose più belle della vita, le relazioni, le relazioni di amore e di amicizia. Ecco, ma neppure quelle a un certo punto ci bastano, perché il nostro cuore, come dice Agostino, è fatto sulla misura di Dio. Gesù dice, ecco, solo io sono il pane che sazia questa fame, che dà una vita diversa e nuova, una vita piena. E la folla si mette nel giusto atteggiamento, quello che viene insegnato anche a noi. Signore, dacci sempre questo pane. Ecco, allora quando ci si mette nell'atteggiamento dell'invocazione, della richiesta, non della supponenza, non dell'autonomia, ma proprio dell'invocazione, allora Gesù porta ancora avanti la sua rivelazione. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Signore, dacci sempre di questo pane, che sei Tu.